Voltiamo pagina perché non possiamo non parlare del periodo che ci apprestiamo a vivere. Da mercoledì 17 ritorna la quaresima e noi abbiamo contattato il nostro direttore, il direttore dell'ufficio liturgico della diocese di Manfredonia V.S. San Giovanni Rotondo, che ritorna, Don Luigi Carbone. Bentrovato Don Luigi, buona domenica. Bentrovata, buona domenica, ciao Anna Maria, ciao. Buongiorno a te. Allora, come si fa a non contattarti quando parliamo di tempi forti? Grazie, grazie. È quasi impossibile. Lo colleghiamo, il tempo forte, a Don Luigi. E allora, vogliamo farci accompagnare da te perché quest'anno, come lo scorso, è una quaresima un po' diversa. Sì, quest'anno è un po' diversa. L'anno scorso è stata non diversa ma diversissima perché abbiamo cominciato in presenza le nostre celebrazioni con il mercoledì delle cenere. Poi dalla prima domenica di quaresima siamo andati verso la chiusura a causa della pandemia e quindi abbiamo vissuto tutto in maniera, possiamo dire, privata ed intimistica. E credo che non sia questo lo spirito della Chiesa, vivere le celebrazioni, vivere la liturgia e soprattutto i sacramenti in maniera privata. È una tendenza che oggi, comunque, un rischio, una tendenza che oggi, devo dire, purtroppo continuo a vivere perché tante persone dicono me la vedo in tv, insomma, e io dico voi avete le gambe, state bene, usiamo le protezioni e veniamo in chiesa. La liturgia, i sacramenti non sono qualcosa di televisivo o di mediatico, sono qualcosa che si vive in presenza. Purtroppo le lezioni a scuola si possono fare con la dad, le università, le riunioni, ma i sacramenti si devono vivere in presenza, come Cristo che ci ha dato tutto in presenza. E quale maniera migliore per affrontare la presenza sacramentale di Cristo è questa della quaresima, questo tempo forte che, come sappiamo, comincia mercoledì, mercoledì prossimo. Avevi detto una cosa bella, i tempi forti. I tempi forti sono avvento, natale, quaresima, ci sono anche i tempi fortissimi che io direi che è il tempo ordinario, il tempo della quotidianità. L'hai detto diverse volte. Sì, brava, ormai sono ad uso a queste trasmissioni, sono anni e a volte si rischia di assolutizzare qualcosa e di minimizzare l'altro. Invece no, è tutto importante. Sono solamente dei periodi, come dicono gli antichi romani, gli antichi greci, è un kairos, un tempo particolare di grazia. Allora, noi, grazie a te, insomma, abbiamo capito nei nostri diversi incontri durante gli anni che è importante anche il tempo ordinario. Giustamente ora ci troviamo a vivere questo tempo forte che richiede una conversione, come sempre. Questa conversione tarda a venire. Forse a volte, ecco, capita anche il contrario. Tu dicevi, si corre il rischio che la gente lo voglia seguire, voglia seguire le celebrazioni in questo periodo, per esempio in tv, ma si è un po' perso il senso vero e profondo della fede in questo periodo, anche se attraverso varie modalità poi comunque si è rimasti, tra virgolette, in contatto con Dio. Sì, meno male che ci sono i mezzi mediatici, dobbiamo dire, Anna Maria, assolutamente. Non si è perso il senso della fede, io credo che si sia perso il senso della comunione, dell'ecclesialità. Tanti parroci giustamente inseriscono celebrazioni importanti o la domenica più messe, ed è una cosa buona per permettere la partecipazione in sicurezza. Anche noi, diciamo, a Manfredonia, ho saputo la mia stessa parrocchia durante questa celebrazione, in questo giorno, nel prossimo mercoledì delle ceneri, celebreremo due messe. Proprio perché non dobbiamo dare alibi, possiamo dire, a chi, diciamo, un po' comodone, di dire, no, c'era troppa gente, sai, ho paura, eccetera. Mettiamo due messe, comunque sono 200, 150, 150, 300 posti in due messe, e insomma non dovrebbero esserci problemi. Comunque, ecco, questo tempo comincia, questo mercoledì, abbiamo detto, mercoledì delle ceneri. Attenzione, volevo sottolineare, inizialmente nella Chiesa Antica, fino al VII, VIII, IX secolo, non si chiamava delle ceneri, si chiamava mercoledì caput quadragesime, inizio, capo della quaresima, o in capiti e iuni, cioè all'inizio del digiuno, perché questo rito delle ceneri è stato inserito dopo, verso il X secolo. Era un rito prettamente penitenziale, Anna Maria. Veniva utilizzato per, solo ed esclusivamente, per coloro che facevano una penitenza pubblica, solene, ed erano pochi cristiani. Ricordiamo che nella Chiesa Antica non c'era la confessione, come auricolare, come la conosciamo noi, ma c'era la penitenza pubblica. Per dei peccati, attenzione, che rimanevano segreti, non c'era mai la confessione pubblica dei peccati, insomma, e questo significa che c'è già il valore del segreto sacramentale. Quindi la quaresima, come dicono i documenti ufficiali, le norme del calendario, ha questa duplice valenza. Una valenza penitenziale, tipica della penitenza pubblica antica della Chiesa, è una valenza battesimale. Ricordiamo che la quaresima era anche il periodo nel quale i catecumini si accingevano a prepararsi al futuro battesimo, che sarebbe avvenuto durante la notte di Pasqua. Quindi noi viviamo questa duplice valenza della quaresima, penitenziale e battesimale, cioè di conversione e di riscoperta del nostro battesimo. Punto. Quali sono le armi, ecco, del combattimento spirituale? Io volevo leggere un piccolo testo, Anna Maria, se mi permetti, che è proprio la colletta di questa messa, della messa del Mercoledì delle Ceneri. La colletta, subito dopo i riti d'ingresso, prima della liturgia della parola, suona così. La leggo in italiano, poi la leggo in latino, però ovviamente la traduco perché è un po' diversa. Tu lo sai che non abbiamo... Oddio nostro padre. Tu lo sai che non abbiamo molto tempo. Io so che le collette sono brevi, giusto? Brevissime. Due secondi. Concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione, per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. Quindi è un cammino di conversione. Il testo latino dice proprio così, presidia milizie cristiane, cioè usa un linguaggio militare, i presidi della di difesa, i presidi erano soldati di difesa nel castello dell'accampamento, della milizia cristiana. Contro cosa? Contra. Spiritales, nequizias, pugnaturi. Noi che stiamo per combattere contro gli spiriti del male. Quindi noi dobbiamo chiedere al Signore questo surplus di grazia, di forza, di conversione, per combattere gli spiriti del male. Questo è il cammino della quaresima da un punto di vista penitenziale. Quali sono gli strumenti? E lo sappiamo benissimo. Ce lo dice il Vangelo di questo giorno. Tre. Sono tre gambe di una sedia, possiamo dire. Senza questi tre pilastri non è possibile la vita cristiana. Preghiera, carità e lemosina e digiuno. Quindi carità e lemosina nel senso di carità in generale. Quindi tre pilastri contro insidias diaboli, contro le insidie del diavolo. Don Luigi, sicuramente il digiuno è dal peccato, tu lo sottolineavi anche prima, la preghiera deve essere costante, non soltanto in determinati periodi cosiddetti forti, e la carità va a riprendere anche tutta l'enciclica di Papa Francesco, fratelli tutti, quindi darsi all'altro. Però ti faccio una domanda, poi purtroppo ci dobbiamo lasciare, che è anche un po' la curiosità di tanti telespettatori. Perché proprio le ceneri e non magari la sabbia, la terra? Perché proprio le ceneri? Perché proprio le ceneri? Perché la cenere è un simbolo che intrinsecamente in sé è pregno di questo significato di caducità. Noi siamo cenere, la cenere è il risultato della trasformazione, della combustione. Quindi noi ci consumiamo nella vita, ci consumiamo d'amore per Cristo e diventiamo cenere alla fine dei nostri giorni. Come ogni essere umano, come ogni essere di questa natura, alla fine può diventare cenere. Non sabbia, attenzione, perché la cenere è il risultato di una trasformazione. La sabbia è un elemento naturale, la terra, anche se la terra ha il significato, la creazione, Adamo, eccetera. Ma la cenere è il risultato di una trasformazione. E la cenere vuole indicare una conversione. Nell'antichità, nella Bibbia, chi si cospargeva di cenere, ricordiamo il re di Ninive, il profeta Giona o il re Davide, si imbruttiva, attenzione, si sporcava perché era sporco del peccato che aveva commesso. Quindi imbruttirsi della cenere significa imbruttirsi del peccato. Lavarsi al fonte battesimale, rimuovendo la sporcizia della cenere, cioè del peccato, significa rinascere a vita nuova. Ecco che tutto, cara Anna Maria, è collegato in questo cammino quarissimale. E c'è tutta una simbologia dietro ad ogni segno. Ci piacerebbe poi approfondire tutti questi temi perché molti li vivono... Quando vuoi? Eh, lo so che sei disponibilissimo, lo so, appena sarà possibile. Molti li vivono, però effettivamente non sanno il vero significato ed è bello conoscerlo. Allora, siamo pronti per questo tempo di deserto e di ritorno a noi stessi che non vuol dire tempo di chiusura perché ne abbiamo davvero già troppo di chiusura, non ne vogliamo più sapere, ma di entrare nel profondo della vita e quindi anche ravvivare le nostre scelte fondamentali che non dobbiamo mai perdere di vista. È vero Don Luigi, siamo un po' stanchi di essere chiusi di questa chiusura, non soltanto fisica. Apriamoci, apriamo i cuori all'amore del Signore e soprattutto apriamo veramente le nostre menti, ma anche al rapporto, diciamo, come dire, sociale, perché a volte diventa anche un alibi, voglio stare chiuso. È vero, è vero. E va bene, non sono uno psicologo, quindi... No, no, ma è effettivamente un rischio che si corre, purtroppo qualcuno c'è già cascato. Bene, dottore psicologo, liturgista, ti ringrazio tanto e lo faccio a nome di tutti perché ci hai aperto le porte di questo nuovo percorso, di questo ritorno alla Quaresima, di questo tempo di cambiamento e di speranza soprattutto. Grazie Don Luigi, di cuore. Grazie Anna Maria, un abbraccio a tutti. Alla prossima. Ciao. 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 Ciao.